Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Come vedete siamo sul server di SpainPVP Ovviamente P in descrizione E cosa andremo a fare se non PVP SpainPVP Vabbè ragazzi cominciamo subito Allora ok Era messo così Devo metterlo così ok Perché mi trovo meglio con questa sistemazione qui Vediamo subito se riesco a fare delle buone kill Ok No no cavolo come ho fatto a mancarlo No cavolo 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 No cavolo non dovevo farmi vedere No ma come le sto lanciando Ah raga ma cosa ho fatto Ok No no ok perfetto perfetto ragazzi Non mi è nata male anzi questo qui lo ero brutalmente Proprio guardate boom perfetto ragazzi L'abbiamo vinta la prima partita con 5 cuori C'è il primo round non partita Perché qui si parla appunto di round Vediamo se riesco a fare qualcosa Quello là sembrerebbe FK No si è spostato Va a scatti ragazzi Sì sì no 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 E' lui che si muove così No ma partono dopo le frecce Ok un po' va a scatti in effetti Quindi cavolo 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 C'è ta Qua serve la tattica ragazzi Qua serve la tattica ve lo dico Ok Oh no per poco Per poco no Cavolo Ok ok però non è molto forte questo qua Ma forse questo round qui ce lo spacca E no ragazzi No ragazzi Con due cuori Metano vince il primo round Il secondo round è proprio la prima partita Quindi direi subito di passare alla seconda partita Sperando trovare uno scarso Allora ok Eccolo qua È diverso da quello di prima Ok sì E cerchiamo di fare le proate Anche stavolta Anche se prima in effetti Non abbiamo fatto proate Come se mi c'è fatto la nostra partita Bella transolla E quindi Cercheremo di farcela anche stavolta In realtà è qua dietro ragazzi Ma non capisco perché stia lì dietro È una tattica un po' strana Che mi sfugge Ok No cavolo Ma non è già mai quando cerco di prevedere i suoi movimenti Che non azzecco ovviamente mai Però No 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 Stammi lontano Stammi lontano A merda A merda No E cavolo Inca Che cavolo è questo qua No no Ah ho preso la freccia Ho preso la freccia Ok ma è andato in svantaggio lui È andato molto in svantaggio lui Cerchiamo di giocarcela bene E vinco anche questo round ragazzi Incredibile Ok per due cuori Che Due cuori ragazzi del pvp Vuol dire che effettivamente me la sono giocata meglio E quando hai mezzo cuore Che si parla di culo O sfiga Però due cuori Più che decente Ok cavolo Perfetto Un'altra freccia Sì sì Tiramele pure tutte Perfetto Vai Sei un grande No 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 Oh Oh le No ma cavolo Vuoi giocartela a modo Ma che schifo sei No raga Cavolo E vabbè No mi tira le frecce Ancora questo qua Incredibile Ok dove sei Ok dove sei Oh le Però dovrebbe avere molta vita Perché le frecce non levano molto qua Quindi Ok perfetto Perfetto ragazzi Come potete vedere insomma Me la sto giocando più o meno bene E vinco anche questa ragazzi Vinco anche questa Io non ci credo nemmeno Stavolta mi stanno capitando gli scherzoni C'è uno mi ha mandato la richiesta Facciamo Slash Accettar Vabbè Eh sì però Ah dice che sta giocando una parte Probabilmente la Un VR random Quello lì Non lo so Vabbè ragazzi Comunque Ti voi trovate sul server Mi inviate le richieste Io le accetto Come avete potuto vedere Ma appunto Se quello lì poi subito La manda qualcun altro È un rotto in culo proprio Comunque no Non la tiro nemmeno qua Tanto so di non beccarlo Quindi Perché c'è già del fuoco Quindi non l'ho capita questa cosa Allora vediamo questo lezzino qui Cosa vuole fare Ok E vabbè ma che cazzo fai zio Raga Ma cos'era questo qui Cos'era Un mostro proprio Un mostro Vieni qui Proprio lezzo Suino Ok ragazzi Con sette cuori Questo qui l'abbiamo Proprio devastato E quindi proprio L'abbiamo spaccato Brutalmente Ora speriamo di fare Un'altra decente Di partita Cioè di round Non partita Questo qui intanto Vedo che si fa i rasponi No Dai ma perché me le fa partire Così tardi le frecce Ma guardate un porcospino Quello là Ma cosa fa Raga cosa sta facendo No 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 Si è un culato di merda Uh Ha preso poco Merda Merda Morci Ok ragazzi Per un cuore Stavolta è un po' più a culo Ma tipo l'abbiamo vinta Anche questa Vi dico che questa qui Allora ragazzi Siamo tipo a 4 minuti Quindi questo video qui Non durerà molto Perché comunque è giusto così Perché alla fine PvP potrebbe anche Non piacere molto Quindi Questi video di PvP Saranno Diciamo Siccome sono round Abbastanza corti Ne faccio molti Però effettivamente Potrei farne anche molti Ma Comunque Il video Durerà sempre Poco Quindi ragazzi Siccome Dopo un po' il PvP Annoia anche Io direi semplicemente Che questa qui È l'ultima partita E speriamo Che ci vada bene Allora la freccia qui Dove l'ha tirata Qua Eccole qua tutte No L'ho mancato Questo qui è pro Ragazzi Questo qui è pro Questo qui è pro No 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 Oh cavolo Vabbè Mi ha levato due cuori Cavolo Cioè questo micro vantaggio Non glielo vorrei proprio dare No 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 Cavolo Cosa fa Vabbè Agiriamo il fuoco Ok No l'ha spento A merda A merda Cosa fai Non mi spegnere il fuoco Ok L'ho schivato un po' a culo Anche il suo fuoco No vabbè raga Questa qui l'ha vinta lui L'ha vinta lui No L'ho vinta io per mezzo cuore Incredibile ragazzi Questa non me l'aspettavo Sinceramente Eh Lo ammetto È andata un po' di culo No no Ci siamo Ci siamo messati a merda Oddio Io l'ho beccato una volta però Ok No Cavolo Cavolo Questo è pro ragazzi Questo è pro No 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 Ok Cosa vuoi fare Cosa vuoi fare E vabbè In me c'ho ancora Le frecce Oh mio dio No 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 Cavolo Ragazzo Sono tipo emozionatissimo Perché questa qui sarebbe La prima volta che li vinco Tutte di seguito Ragazzi incredibile Di 5 cuoie Addirittura Ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Abbiamo devastato i nemici Cioè rispetto all'ultimo video Penso che ne sarete accorti anche voi Sono migliorato veramente molto Infatti ora So usare Cioè non è che so usare Uso Diciamo comincio a usare di più L'accendino Cioè lo uso sempre L'arco sempre E la canna da pesco ogni tanto Quando sono in difficoltà Quindi un minimo dei miglioramenti Penso l'abbiate notato anche voi Abbiamo spaccato i culi ragazzi Se questo video qui non ho fatto tagli Quindi potreste anche vedere Che un diciamo Video tutto d'un pezzo Diciamo Comunque spero che vi sia piaciuto Ed Ciao a tutti